Stasera un tema importante, un tema che riguarda la neurochirurgia, le sue nuove tendenze, gli sviluppi delle attrezzature per la sala operatoria, la robotica, ma non solo, parleremo di traumi cranici e parleremo delle patologie dei musicisti professionisti. Tutto questo lo faremo in compagnia del nostro graditissimo ospite che è un amico, Michele Nadeo, il professor Michele Nadeo che è neurochirurgo al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, grazie Michele per essere qui con noi e parleremo con lui di tutti questi aspetti che riguardano la neurochirurgia e le neuroscienze, quindi lo sviluppo della scienza applicata proprio alla neurochirurgia. Come sempre la nostra trasmissione inizia con una scheda tecnica predisposta per noi dalla redazione di Ecografi, prego quindi la regia di mandarle in onda. La neurochirurgia è una branca della chirurgia che si occupa del trattamento chirurgico di patologie a carico del sistema nervoso. Obiettivo di una struttura di neurochirurgia è offrire ai pazienti la disponibilità di cura per patologie del sistema nervoso che necessitano di trattamento chirurgico come le lesioni tumorali dell'encefalo e del midollo spinale, le malformazioni vascolari, le patologie malformative degenerative craniche e vertebrali, la patologia traumatica cranica e vertebro midollare. Da alcuni anni la chirurgia tradizionale si è affiancata anche nel campo neurochirurgico con l'utilizzo dei robot che hanno diminuito il rischio di infezioni operatorie migliorando nel contempo la precisione della chirurgia. Il reparto di neurochirurgia del Centro Traumatologico Ortopedico CTO di Torino, situato in via Zoretti 29, è nato per la cura delle emergenze neurochirurgiche in un trauma center ed ha sviluppato in questi anni collaborazioni interospedaliere basate sulla valutazione collegiale delle indicazioni operatorie e dei risultati. Si sono in particolare sviluppate la chirurgia degli adenomi ipofisari, la terapia chirurgica dei tumori cerebrali, di particolare rilievo l'attività di neurochirurgia stereotassica e funzionale e l'attività neurotraumatologica rivolta alla cura sia dei traumi cranioencefalici che vertebro midollare. Ma oggi a Passi in Salute parleremo sia di traumi cranici che della loro incidenza e delle drammatiche conseguenze che comportano e scopriremo anche il lavoro dell'associazione ONGUS BIP-BIP ed affronteremo il campo della prevenzione e cura delle patologie dei musicisti, una categoria lavorativa ben definita, esposta ad una serie di fattori di rischio che concorrono all'insorgenza di patologie professionali di vario tipo e spesso altamente invalidanti. Bene, tanta carne al fuoco, cominciamo in questa nostra conversazione per capire un attimino i contorni della neurochirurgia, io nella scheda ho cercato di tracciarne alcune intenzioni, però adesso io lascerei a te spiegare appunto il settore, la neurochirurgia a quale tipo di patologie si rivolge e poi scopriremo tutte le novità che ci sono nel campo della tecnologia. Senz'altro, in effetti già la scheda è stata abbastanza esaustiva, quindi la neurochirurgia si occupa sia delle patologie di origine traumatica, sia di origine tumorale e degenerativa, sia a livello, come è stato già detto nella scheda, cranico e a livello spinale. Diciamo che oggigiorno sta aumentando quello che è la patologia oncologica, se non altro per l'aumento anche di lesioni secondarie a livello cerebrale o a livello spinale. La patologia traumatica si è ridotta rispetto agli anni passati grazie all'uso anche dei dispositivi di sicurezza come il casco, la cintura di sicurezza, l'airbag e diciamo una maggiore accortezza nella guida anche se vediamo c'è una fascia di età che ancora tutto questo rimane a valori percentuali identici a 15 anni fa. Però senz'altro determinate patologie traumatiche molto frequenti una volta negli anni 80, tipo l'ematoma extradurale, si è ridotto notevolmente, in un anno il numero di ematomi extradurale è davvero molto molto basso, mentre prima rappresentava una grossa fetta della patologia traumatica, è pur vero che sono aumentate però le lesioni traumatiche a non indirizzo prevalentemente chirurgico, neurochirurgico, ma rianimatorio in terapia intensiva e sono esiti di trauma prevalentemente ad alta cinetica, dove in effetti non vi è un'indicazione chiara chirurgica a operare, ma sono pazienti che vanno trattati dal neuro rianimatore eseguiti affinché si possa avere poi dopo un certo recupero. La patologia degenerativa, per quanto concerne l'apparato cranico e l'apparato vertebrale, la percentuale rimane grossomodo sempre la stessa. Per capirsi, anche per rendere un po', perché i nostri telespettatori chiaramente non sanno, come avviene, allora noi abbiamo anche alcune immagini di sala operatore dove si vedono delle scene, allora bisogna fare una trapanazione cranica per intervenire, quali sono le tappe che dovete fare per intervenire sul cervello? Ok, sì, sul cervello si interviene ovviamente, si fa una, chiamiamo una trapanazione, così utilizziamo dei termini abbastanza semplici per capire, quindi si asporta la calotta, la parte della calotta, non è che si apre tutto il cranio, la parte della calotta, oggigiorno fra l'altro utilizzando in sala operatore degli strumenti come il neuronavigatore che sarebbe poi un GPS, un tipo di immagini che forse ci hai fornito anche tu, ecco. Esatto, si riesce a localizzare bene l'aria in modo tale da fare un'apertura più piccola possibile per arrivare comunque in modo agevole sull'aria cerebrale interessata, quindi si porta via la calotta che poi dopo verrà rimessa e fissata, si utilizza il microscopio operatorio, sono interventi tutti che non si fanno a occhio nudo, ma si fanno con l'ausilio del microscopio operatorio, che è fondamentale, infatti dagli anni, fine anni 60 si è avuto uno sviluppo enorme della microchirurgia, è importante anche per i risultati, per il follow up che si occupa. Quindi una minore invasività. Assolutamente, una minore invasività, che minore invasività non vuol dire, e non vorrei entrare in una, diciamo, che mi contraddico, una contraddizione, aprire meno, minore invasività vuol dire cercare di dare meno danno possibile per arrivare. Ecco, ma l'intervento chirurgico, neurochirurgico di per sé, provoca inevitabilmente dei danni, oppure oggi grazie alla microchirurgia, grazie a dei microscopi sempre più precisi, abbiamo quasi la sicurezza di riuscire ad intervenire sulla lesione e basta? Assolutamente sì, assolutamente sì, oggi giorno usciamo, è una volta diverso, ma anche perché ci avvaliamo anche dell'utilizzo del monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, per cui noi ci rendiamo conto di quello che accade, inoltre si sta sviluppato, si sta sviluppato io già dal 2006, cioè operiamo patologie tumorali in aree specifiche del cervello con paziente sveglio, cioè il paziente non dorme, sveglia, anzi viene preparato nei giorni prima, vengono fatti dei test anche dal neuropsicologo e poi intraoperatoriamente vengono somministrati questi test a pazienti svegli per capire dove noi stiamo lavorando, se quella zona dove dobbiamo intervenire può essere fonte di un deficit permanente, quindi si evita e si cerca poi di fare un percorso diverso. Però tu nelle informazioni che mi dicevi, mi dicevi quanto sia importante oggi la robotica, perché questo è un altro grandissimo passo in avanti. Sì, questo è un altro passo in avanti, molto molto importante, la robotica oggi giorno in neurochirurgia sta facendo i primi passi, da alcuni anni sono fuori alcuni robot, ce n'è uno in particolare che può essere utilizzato sia a livello cranico però soltanto per un tipo di patologia, mentre è più utilizzato a livello spinale, a livello vertebrale, nel caso delle malformazioni, delle deformazioni del rachidi anche nella patologia oncologica, perché ci permette di poter accedere con una minore invasività sulle componenti sia delle osse vertebrali e anche poi dopo anche a livello spesso migliorare. Sono macchine care questi? Sono macchine molto care, noi abbiamo avuto la fortuna alla città della salute di iniziare a utilizzarlo già dal settembre del 2014, in Italia siamo stati i primi a utilizzare il robot intraoperatorio per la patologia appunto malformativa e oncologica a livello vertebrale. Ecco, quindi diciamo per un neurochirurgo tradizionale che non ha mai usato la robotica, quanto può durare un corso di apprendimento per essere poi in grado di lavorare in sala operatoria tranquillo con il robot? La curva di apprendimento non è lunghissima, è ovvio che in pochi mesi si riesce poi a utilizzarlo, perché prevede delle fasi un po' diverse rispetto a quello che è l'intervento tradizionale, perché l'intervento ovviamente viene pianificato prima, nei giorni precedenti con determinati esami, all'intervento gli esami che sono stati fatti precedentemente vengono caricati nel sistema software del robot e poi a questo si aggiunge una sola radiografia intraoperatoria in modo tale che vengono fuse le immagini, l'immagine fatte preoperatoriamente e l'immagine fatta intraoperatoriamente. Poi il sistema, il software sviluppa se solo la strada dove deve piazzarsi il robot e a quel punto il chirurgo non è altro che un esecutore. Un esecutore, ecco. C'è molto la tendenza, oggi tu mi insegnerai, dell'utilizzo della robotica in chirurgia cardiovascolare per esempio, ma anche in altri aspetti della chirurgia si lavora sempre di più. Ecco, questo vuol dire che in qualche modo potremo aspettarci delle guarigioni migliori, delle prognosi più favorevoli e quindi naturalmente meno infezioni ospedaliere che sono uno dei grandi problemi, dei grandi nosocomi. Senz'altro sì, diciamo lo scopo è proprio quello di ottenere una minore ospedalizzazione, una minore percentuale di ospedalizzazione, si riduce pure dal punto di vista chirurgico e l'invasività, come dicevamo prima, e si riducono l'esposizione, per quanto concerne la patologia malformativa e deformativa del rachide, l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, quindi sia per il paziente sia per l'equipo operatoria. Oltre il discorso delle infezioni, come dicevi, si riduce, notevolmente si riducono anche i tempi chirurgici poi. Ecco, giustamente tu negli appunti che mi hai fornito mi dicevi, generalmente c'è questa concezione che l'innovazione costa, costa in termini di apprendimento, costa in termini di apparecchiature, ma è un costo vero o poi alla fine si risparmia anche qualcosa? Ma no, senz'altro si risparmia e come? Perché se già pensiamo alla riduzione delle complicanze che noi possiamo avere in termini proprio fisici per quanto riguarda il paziente, al di là di quelle che possono essere le controversie medico-legali che potrebbero venire, anche quello purtroppo va considerato, quindi il risparmio senz'altro c'è. È ovvio che i costi iniziali, cioè all'inizio quando si attua e si utilizza un'apparecchiatura nuova sono molto elevati, poi mano a mano è come quando abbiamo iniziato ad utilizzare i primi cellulari, i primi computer, avevano un costo molto alto rispetto a quello che facevano e poi via via si è avuto una diminuzione del costo. Dunque, noi adesso dobbiamo un pochino spiegare ai nostri pazienti come avviene, anche perché giustamente tu dicevi che oltre alla patologia tumorale del cervello e della spina, cioè della colonna vertebrale, della vertebro midollare, voi lavorate anche su patologie vascolari, no? Malformazioni vascolari. Ecco, oggi quando si interviene in una malformazione vascolare? Cioè in caso di un ictus emorragico si interviene oppure no? E in quale altre forme? Dipende dalla causa, perché l'ictus emorragico può dipendere da tante cause. Quella più frequente in ambito neurochirurgico è la rottura di una malformazione tipo aneurismatica, che è quello che accade più frequentemente, al di là di quelle che possono essere poi gli ictus emorragici legati a patologie per l'alterazione dei vasi per altri motivi. E senz'altro quella che è l'emorragia subaracca un'idea poi, per intenderci nell'ambito della rottura di una malformazione aneurismatica. Oggigiorno ovviamente si procede a intervenire più precocemente possibile, ovviamente in tempi ragionevoli, ma molto molto precoci ovviamente, diciamo entro le prime 24 ore bisogna intervenire. E' ovvio, questo lo voglio dire per una correttezza, adesso fra l'altro abbiamo organizzato, io sono stato tra gli organizzatori di un corso che si è tenuto a Venezia il 5 e 6 maggio scorso, proprio sul trattamento degli aneurismi rotti e si è visto in Italia, abbiamo chiesto e abbiamo avuto la partecipazione di vari colleghi di ogni regione d'Italia per capire in ogni regione che cosa accade, che cosa succede. I dati sono abbastanza simili per tutti, abbiamo un'incidenza di circa 6 casi ogni 100 mila abitanti, ex novo di rottura per malformazioni aneurismatiche, il problema di intervenire in modo precoce diventa importante. Ovviamente questo non vuol dire che il paziente arriva alle 2 di notte e viene subito operato, a meno che non abbia un ematoma, allora in quel caso è senz'altro dovuto, ma altrimenti è ovvio che la cosa più logica è operare poi il paziente al mattino, diciamo 4-5 ore dopo, questo sia perché il chirurgo è riposato, perché è fondamentale, di conseguenza anche nel frattempo si procede alla stabilizzazione del paziente, naturalmente quando abbiamo un ematoma non si discute se l'ematoma è pericoloso per la vita del paziente, si interviene a qualsiasi ora, quella è poco, ma sicuro. Bisogna però dire anche che oggigiorno si utilizzano, si utilizza anche una nuova tecnica che non è chirurgica ma è la tecnica endovascolare, quindi quella che viene definita embolizzazione, cioè l'utilizzo di spirali, adesso sono cambiati pure i mezzi, non soltanto le spirali, le spirali sono state inventate da un italiano, da un ex neurochirurgo che poi si sa fare, il neuroradiologo che è il professor Guglielmi che lavora adesso alla Sapienza a Roma, quindi quando ci sono pazienti che possono beneficiare del trattamento non chirurgico ma endovascolare si procede anche all'embolizzazione della malformazione. Si interviene con dei micro cateteri e si arriva sino alla malformazione e i neuroradiologi, a Torino devo dire che abbiamo un'ottima scuola di neuroradiologi, si tende a chiudere la malformazione, quindi si valuta insieme dal punto di vista multidisciplinare quando trattare chirurgicamente o meno, ripeto, in un caso di ematoma non si discute, il paziente va operato per forza perché c'è l'ematoma che comunque può dare una problematica non indifferente sull'outcome del paziente, sulla prognosi. Tu mi dicevi che di apparecchiatura robotica, quante ce n'è una sola in Piemonte? In Piemonte, in Italia ce ne sono due, abbiamo noi che abbiamo iniziato prima e poi adesso è stata acquisita anche a Pisa, dall'azienda sanitaria di Pisa. Ecco, io non so, adesso forse tu potrai dirmelo sicuramente. A livello neurochirurgico, stiamo parlando di neurochirurgico. Neurochirurgico, ecco, quante divisioni neurochirurgiche ci sono in Piemonte? In Piemonte ce ne sono cinque, perché a Torino ce ne sono due, una Alessandria, una Cunia e una Novara, in più abbiamo una neurochirurgia pediatrica, Regino Margherita, questo è fondamentale perché Piemonte è una delle poche regioni ad avere proprio una neurochirurgia pediatrica proprio dedicata ai bambini, infatti vorrei citare la dottoressa Peretta perché merita davvero questa citazione perché è bravissima e ha tirato su un ottimo reparto. E immagino è anche particolarmente importante. Quindi diciamo che in termini di rapporto costo-beneficio, ovviamente un'apparecchiatura come quella di cui voi disponete potrebbe servire anche per più regioni o avrebbe un senso un domani pensare in tutte le regioni e a meno averne una. Ma teoricamente se sarebbe quello l'auspicio. Esatto, avere una in ogni regione sarebbe... non tutti i pazienti devono essere operati con la robotica, questo come va detto, perché dove non hanno il robot non operano bene, operano benissimo e ottengono dei risultati altrettanto ottimi come possiamo averlo con il robot. Vediamo ancora un passaggio, sempre per essere... allora voi intervenite, ma come si diceva nella scheda introduttiva siete all'interno di una grande struttura ospedaliera, la Città della Salute, il CTO e vi appoggiate anche ad un'unità spinale, a un reparto di neuro-riabilitazione. Ecco, ammettendo che tutto vada bene, stiamo parlando prevalentemente sia di traumi crani, poi lo vedremo, ma anche di patologie vertebro-midollari. Quali sono i tempi per cui poi un paziente a cui tutto è andato bene si avvia alla neuro-riabilitazione? Beh, se va tutto bene, nel caso di malformazioni, di deformazioni, diciamo, per esempio, spondirolistesi, tanto, diciamo, dei termini più semplici, tipo artrosi a livello lombare, pazienti con lombagini... Civolamento diverso... Civolamento diverso... Ecco, diciamo, ma i pazienti poi vengono poi dimessi nell'arco, dicevo prima, abbastanza rapidamente nell'arco di 4-5 giorni, vengono dimessi e poi faranno trattamento riabilitativo ambulatoriale. Invece, chi sono i pazienti che devono assolutamente andare in un'unità spinale? Sono i pazienti che hanno poi delle lesioni mieliche midollari, lesioni mieliche che più delle volte sono dovute alle lesioni tumorali o traumatiche. Quindi, passata la prima fase di stabilizzazione, entro i primi 10-15 giorni, poi il paziente viene avviato all'unità spinale dove prosegue poi il trattamento riabilitativo, che è fondamentale perché noi vediamo un paziente con un quadro clinico che non sarà poi sicuramente quello definitivo perché ci sarà sempre un miglioramento. Lo rivedete dopo voi? Sì, assolutamente, si collabora molto con i nostri fisiatri, i riabilitatori, si valuta con una frequenza per lo meno una volta alla settimana i pazienti vengono rivalutati. Ti faccio una domanda perché le persone ce lo chiedono, quando possiamo sperare, tu parlavi prima di lesioni midollari definitive, quindi parliamo di un tetraplegico, di un paraplegico, di queste persone. C'è qualche cosa che lasci sperare che un domani si potrà intervenire o fare qualcosa per riconnettere le fibre? Beh, è una domanda da un milione di dollari, come si diceva, è difficile. C'è qualcuno che studia, si fa un gran parlare delle staminali. Sì, gli studi sono stati, però dati certi ancora in letteratura, non ce ne sono, ci sono tantissimi ciarlatani che parlano ed è pericoloso perché poi giustamente la gente... False illusioni, ecco. False illusioni, false illusioni. Ecco, quindi cerchiamo di capire... Però senz'altro si sta studiando e non è detto che non ci si arrivi, assolutamente, però allo stato attuale. Da quando tu hai cominciato, quanto è cambiata la neurochirurgia? Beh, è cambiata tantissimo, più che altro per proprio l'ausilio anche di apparecchiatore, tipo appunto dicevo il navigatore, adesso per arrivare poi ultimo al robot, oppure lo stesso microscopio operatore che si è modificato e l'utilizzo di tecniche intraoperatorie come il monitoraggio neurofisiologico che diventa fondamentale. Ma questo è molto interessante, voi tenete il paziente sveglio anche per capire... Ma non soltanto quando è sveglio, anche quando il paziente è in anestesia generale sedato, si utilizza il monitoraggio neurofisiologico, oppure quando si operano tumori o lesioni spinali, si stimola e noi vediamo la risposta immediatamente. Abbiamo un quadro della situazione immediata, specialmente nei tumori intramidollari, dove il rischio è che il paziente possa uscire, ad esempio nei tumori intramidollari cervicali, possa uscire tetraplegico. I pazienti arrivano grossomodo con un quadro clinico apparentemente normale, se uno lo vede, però con una lesione che è all'interno del midollo, bisogna aprire il midollo, togliere il tumore e il paziente poi deve ricominciare a fare la sua vita di prima. E allora il monitoraggio è fondamentale, perché se si ha un'alterazione bisogna fermarsi, si aspetta di nuovo la ripresa del tutto e poi si riparte di nuovo. Allora una volta tutto questo non si sapeva e si continuava a operare, poi con dei risultati successivi che erano assolutamente fallimentari. Magari si salvava la vita del paziente, ma si faceva un invalido. Assolutamente. Entriamo, poi andiamo in pausa, però volevo cominciare con te a parlare di BipBip, perché so che è un'associazione, un onlus molto meritevole per cui tu sei molto impegnato, ma che ci introduce al tema dei traumi cranici, tu forse avrai anche dei dati, anche spinali, quindi cranici, spinali, gli incidenti, tu prima ne accennavi velocemente a quanto l'uso di airbag, di cinture, di sicurezza di un certo tipo, casco nelle motociclette, biciclette, ha ridotto un po' la gravità. Io introdurrei il tema, poi ti fermerei, andiamo in pubblicità e riprendiamo. Allora, cerchiamo di capire bene, quando parliamo di trauma cranico e trauma midollare, di che cosa stiamo parlando e quali sono le cause più frequenti di traumi. Le cause più frequenti dei traumi sono, senza altro, gli incidenti stradali. Ancora oggi? Ancora oggi, se ci riferiamo ai traumi cranici in special modo, ma anche ai traumi spinali. Poi tutte le altre cause sono le cadute accidentali, nello sport. Qui abbiamo messo una slide commotiva e non commotiva, questo è una torta per capire un po' l'incidente. Esatto, poi gli incidenti sportivi, giustamente, però gli incidenti stradali sono quelli che mantengono a tutt'oggi ancora il numero più importante per quanto riguarda gli esiti, l'origine, la causa di traumi cranici e traumi spinali. Ne riparliamo poi dopo, se no io volevo farti un piccolo accenno. No, prego, abbiamo ancora un paio di minuti, qui purtroppo abbiamo una drammatica immagine di un incidente stradale. Ecco, questi sono già incidenti ad alta cinetica, cioè la velocità senza altra era molto elevata in questo caso, però il problema io lo porrei più che altro sugli incidenti a bassa cinetica che possono dare delle conseguenze, specialmente a livello spinale, delle conseguenze molto eclatanti e con una prognosi molto brutta per il paziente. Ecco perché l'utilizzo, prima si parlava delle cinture di sicurezza. Noi abbiamo avuto, abbiamo assistito anche proprio recentemente, fortunatamente non c'è stato un danno midollare in un caso, ma nell'altro, il paziente che viaggiava in auto senza cintura di sicurezza, ma per pochi metri, ho fatto 100 metri e quei 100 metri sono stati fatali perché è stato balzato fuori dall'auto e uno di questi pazienti ha avuto una brutta frattura cervicale ed è rimasto tetraplegico. Quindi vuol dire cambiare la propria vita. Un altro è stato più fortunato, comunque si è fatto una serie di fratture vertebrali, di fratture costali, però comunque è proprio perché noi non ci rendiamo conto di quanto può essere il pericolo e di come è molto labile, cioè davvero crearsi dei danni che poi sono irreversibili. Noi pensiamo che per farci un danno midollare chissà che trauma dobbiamo avere. E invece no. Basta un'uscita fuori strada anche a 40 km all'ora dell'auto e poi fra l'altro senza parlare degli impatti a velocità bassa, cioè 40 km orari, significa lanciarsi dal terzo piano. Tu ti lanceresti dal terzo piano? A 40 km? 40 km. Questo direi che è un dato che tu ci dai molto allarmante, direi che io non mi lancierei, ma certamente. Allora siamo giunti nei pressi della pausa pubblicitaria, quindi rimaniamo per due minuti in pausa e poi siamo di nuovo in studio con Michele Nadeo per parlare di neurochirurgia. Pubblicità, prego.